Carissimi amici di Uri, carissimi amici di Uri, sono Francesco Montorsi e dirigo l'Urologia del San Raffaele di Milano. Il nostro istituto di ricerca Uri, che conoscete bene, continua a lavorare al super top con tantissimi ricercatori giovani che sono veramente all'avanguardia per trovare nuove soluzioni di cura per i tantissimi pazienti che ci chiedono aiuto quotidianamente. Buongiorno, sono Riccardo Leni, ho 29 anni e mi trovo a New York, al Memorial of the Soul Kettering Cancer Center, dove studio il tumore della prostata. Mi chiamo Chiara Re, ho 29 anni, sono una specializzante al secondo anno in Urologia e sto per partire per l'Università di Cambridge, dove studierò la genetica del tumore del rene. Sono Francesco Pellegrino, ho 30 anni, attualmente mi trovo al Canolisca University Hospital di Stoccolma, dove mi occupo di ricerca nell'ambito della chirurgia robotica per il tumore della rescita. Lunedì 13 novembre di quest'anno, presso la prestigiosissima sede dell'Hotel Principe di Savoia di Milano, organizziamo una bellissima serata di raccolta fondi, dove vi chiedo di volere partecipare con entusiasmo e generosità. Avremo insieme a noi gli chef stellati Carlo Cracco e Davide Oldani con eccellenti bollicine e vine ed un'eccellente cena. Lunedì 13 novembre con Fondazione Uri, sarò ancora presente per questa fantastica cena organizzata naturalmente con l'energia del professor Montorse. Io ci sarò, spero siate sempre più numerosi anche voi e vi aspetto per una grande serata. Ciao! Cari amici, eccoci qua! 13 novembre, Uri! Abbiamo il nostro appuntamento annuale per la raccolta dei fondi, dobbiamo aiutare e sostenere Uri, dobbiamo aiutare il Chico, il Chico Montorsi, perciò io vi aspetto tutti quanti la sera del 13 per una bellissima serata di gala. Ciao! Serve per aiutare i nostri giovani ricercatori a fare sempre di più per aiutare i pazienti che ne abbiamo bisogno. Venite, aiutateci, siate generosi!